Ciao ragazzi, oggi è finita la mia prima settimana a CERD e sono felice di com'è andata, ho fatto un'ottima prima settimana, direi mi sono rimesso al lavoro a fare i miei soliti disegni quando c'è la pausa e la prossima settimana sarà ancora più bello perché in quanto verranno tutti a trovarmi a casa mia il mercoledì, quindi sarò felice ed entusiasta di ospitarli nuovamente. Sono veramente stato contento, mi ho presto a passare un altro ottimo weekend qua a casa e speriamo insomma che tutto vada bene questo weekend e che il Milan ritrovi la vittoria perché dopo la sconfitta casalinga con Sassuolo le cose non sono andate per il verso giusto, insomma vediamo insomma come va, poi dobbiamo vedere una serie di cose, seguire il calcio mercato e spero che tanti milanisti lo seguiranno come lo seguirò io insomma per quanto potrò poi come sapete la domenica sarà impegnativo, c'è il calcio, c'è un po' di cose e così insomma mi auguro buon weekend a chi vai weekend a farsi weekend magari da qualche parte a chi sta a casa stia pure a casa a guardarvi le partite e per quanto riguarda i concerti da consigliarvi non saprei perché ce ne sono talmente tanti che uno ha liberato della scelta sia la possibilità di muoversi io questo weekend non mi muovo, non penso di muovervi salvo problemi insomma auguro a tutti i miei amici di youtube che mi seguono in tanti e auguro loro un buon weekend sperando che le vostre squadre del cuore vincono l'importante è che non siano negli interi di juve potete fare quello che volete ma vabbè lo stesso anche se ti fate l'intero juve o vedi se siete miei amici mi andate bene lo stesso comunque vi lascio e vi auguro un buon weekend e al prossimo video ciao 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 ciao